Musica Cambia la tua vita, cambia l'Italia. Al via con questo messaggio la nuova campagna video e web per il Best Programme 2015, borse di studio universitarie in Silicon Valley per ricercatori al di sotto dei 35 anni. Alessandra Azzolini Dall'Italia alla Silicon Valley, il tragittore più breve per i ricercatori italiani under 35 che hanno progetti innovativi nel campo dell'informatica, del biotech, ma anche nei settori strumenti e macchinari, energie e tecnologie verdi, arte e moda. A loro, giovani economisti e laureati, sono destinate le borse di studio messe a disposizione da Best Programme 2015. Parte la campagna 2015, sul sito bestprogramme.it ci sono tutte le specifiche. Vi spingiamo ad aderire perché vorremmo che i 63 che hanno già realizzato diventassero centinaia. Le borse di studio, che valgono circa 41 mila dollari, permetteranno di frequentare un corso di imprenditoria alla Santa Clara University nella Silicon Valley e un tirocinio di 5 mesi presso una start-up americana. A ritorno, i ricercatori affiancheranno imprenditori italiani per creare la propria start-up in Italia. È un importante programma che permette ai talenti italiani di predisporre la loro start-up e misurarne l'efficacia negli Stati Uniti e magari ritornare in Italia e accedere ai finanziamenti che Invitalia da un anno ha messo in campo. In sette anni sono stati premiati 63 giovani tra ricercatori e laureati e sono nate 37 start-up innovative che hanno ricevuto investimenti per un totale di 30 milioni di euro e creato circa 320 posti di lavoro. È un programma molto interessante, è cominciato in maniera molto selettiva e adesso stiamo lanciandolo su una base più ampia e con uno spettro di tecnologie e di attività molto più largo.